Buongiorno a noi, tutti i cammini rappresentanti un attacco per l'uomo sulla sinistra per Corvino Corvino scende sulla sinistra, punta l'avversario e Benedetto lo contrasta, riparte Lottamura con Stefanini Corvino scende sulla sinistra, riparte Lottamura con Stefanini Corvino scende sulla sinistra, riparte Lottamura con Stefanini Rimpallo su Aloisio, ancora Papi che lotta al centro campo Montrone, pallo su Montrone Corvino scende sulla sinistra, riparte Lottamura con Stefanini Grazie a tutti.